Si avvicina al cinema per caso. Scoperto, per le vie di Marina di Ragusa. Dal regista Gianni Amelio, interpreta così il ruolo di Spiro. Protagonista di L'America, 1994, accanto ad Enrico Loverso. Successivamente viene ingaggiato per interpretare altri film come Oltremare e Non è l'America. 1999, di Nello Correale, tu ridi dei fratelli Taviani. L'uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore. Il commissario Montalbano ne è il senso del tatto. Il regista Amelio ha detto di lui. Di Mazzarelli è morto il 13 giugno 2010 all'età di 92 anni.